ok ci siamo prego buongiorno a tutti grazie a tutti i partecipanti presenti numerosi mi fa molto piacere a nome della Camera di Commercio essere qua oggi per presentare una nuova edizione del bando Design Calling la terza edizione che rispetto alle due passate si arricchisce di un'ulteriore dimensione quindi oltre alla dimensione del digitale c'è anche il tema della sostenibilità che quindi abilità apre le porte a nuovi progetti che possono come dire salire su questo bando è un'iniziativa che noi portiamo avanti in collaborazione col Circolo del Design che è una collaborazione ormai storica che usa soprattutto un progetto Ask to Design che è una piattaforma tecnologica di matching tra domande e offerte di design tra il mondo del design delle aziende che si occupano di design e delle imprese ma è anche un progetto che offre servizi ed è proprio usando questa piattaforma progettuale che noi appunto presentiamo questa terza edizione di Design Calling che non è una semplice procedura di erogazione di contributi a fondo perduto sotto forma di voucher questo ci tengo a sottolinearlo ma è un vero e proprio percorso di affiancamento di supporto per aiutare le imprese utilizzando utilizzando lo strumento del design le metodologie del design per far evolvere i propri progetti ed è anche un'occasione ovviamente per incrementare la propria capacità progettuale la cultura del progetto quindi è un processo è un percorso che inizierà con appunto un accompagnamento un affiancamento da parte dei designer e del circolo del design che porterà come primo output alla definizione alla pubblicazione di una call for design cioè che appunto proprio utilizzando la piattaforma Ask to Design permetterà di presentare il proprio progetto e quindi realizzare il matching individuando il designer che poi affiancherà l'impresa nella realizzazione del proprio progetto a valle di questo di questo percorso ci sarà poi anche l'applicazione al voucher che appunto se l'istruttore avrà esito positivo consentirà l'erogazione di un contributo a fondo perduto è una metodologia che noi abbiamo convintamente riproposto quest'anno perché diciamo ha avuto praticamente successo questo secondo me lo possiamo dire sulla base di diversi fattori ma soprattutto tre ci tengo a sottolinearli allora a parte la customer fatta a valle della seconda edizione ma anche della prima che ha dato riscontri positivi sia dal lato dei designer che hanno partecipato e sia dal lato delle imprese che hanno beneficiato dei voucher ma poi ci sono altri due aspetti che secondo me sono importanti allora innanzitutto molte molte idee progettuali hanno costruito una call diversa rispetto a quelle che erano le proposizioni iniziali quindi vuol dire che il rapporto professionale con i designer è servito per tarare meglio il tiro quindi ridefinire gli obiettivi progettuali i tassi del progetto e quindi è stato come dire smontato e rimontato in modo diverso il progetto quindi questo significa che effettivamente la collaborazione ha portato ad una crescita dell'impresa l'altro elemento che alcune dei matching che noi abbiamo realizzato si sono poi trasformati in collaborazioni professionali tra imprese e designer quindi questo vuol dire che alla fine le cose hanno funzionato e l'imprenditore oltre ad aver riconosciuto l'utilità del progetto ha anche come dire costruito appunto un rapporto professionale col design quindi direi un'iniziativa particolarmente virtuosa che convitamente riproponiamo di cui ovviamente vi verranno dati i dettagli dai colleghi che mi seguiranno in ogni caso oggi è stata pubblicata sulla pagina sulla pagina del sito camerale la spiegazione del bando il testo del bando intero quindi insomma avrete tempo tanto l'apertura poi avverrà nel 2024 per cui c'è tutto il tempo per studiarlo per capirlo ed eventualmente poi applicare ci sarà c'è la possibilità durante questa live di porre delle domande utilizzando la chat a cui vi verrà data risposta ovviamente e in ogni caso verrà alimentata una posita sezione di fac che verrà appunto arricchita man mano che arrivano le domande e man mano che vengono date le risposte quindi io mi auguro che anche questa edizione del bando avrà successo ma ce l'avrà sicuramente come le precedenti due e lascio la parola alla direttrice del circo del design Sara Fortunati che aggiunge un pezzo diciamo alla mia introduzione grazie a tutti buon lavoro grazie Guido buongiorno a tutte buongiorno a tutti allora noi intanto vi racconto dicendovi che siamo molto contenti come circolo del design di partecipare a questa terza edizione di design calling e i motivi del fatto i motivi di questa contentezza stanno nelle parole di quello che vi ha raccontato prima Guido cioè nell'assistere e nel partecipare a un processo che fino a qui ha messo in moto dei meccanismi che per noi sono virtuosi e apprezzabili virtuosi e apprezzabili da che punto di vista dal punto di vista della promozione degli strumenti e delle competenze del design come risorse a disposizione per collaborare con le imprese nella generare innovazione dentro a questo obiettivo sta la collaborazione con la Camera di Commercio che parte diciamo così dall'inizio delle attività del circolo del design che ci ha visto lavorare assieme ad un servizio che poi vi sarà raccontato nel dettaglio perché è incardinato come diceva Guido all'interno di questo percorso di bando e il servizio è Ask to Design che è un vero e proprio servizio di matching e di accompagnamento per le imprese ad incontrare il professionista diciamo così più adatto a delle esigenze della vita dell'impresa che possono incontrare nel design degli strumenti e delle competenze per lavorare a diversi livelli sul prodotto sulla comunicazione sulla promozione sulle strategie sui processi sulla propria vita digitale per darvi un orizzonte anche concreto per portarvi alcuni casi su cui il bando dello scorso anno che come ricordava Guido aveva come obiettivo quello di generare dei percorsi per le imprese diciamo così nella direzione della transizione digitale quindi quello era il focus dello scorso anno vi porto alcuni esempi di call che sono state lanciate all'interno di questa piattaforma a valle del percorso di accompagnamento di cui vi diceva Guido e che hanno effettivamente incontrato lo studio il professionista del mondo del design che in questa direzione ha dato corpo insieme all'impresa diciamo così alle esigenze di partenza quindi per esempio una piccola azienda di consulenza che eroga appunto consulenza la formazione per la pianificazione finanziaria ha partecipato e vinto il bando dello scorso anno trovando attraverso la collaborazione con uno studio la forma la dimensione la capacità con lo studio di creare una campagna di comunicazione di promozione dei propri servizi dei propri servizi appunto e dei propri prodotti diciamo così in cui lo studio di design ha lavorato alla creatività della campagna di comunicazione e promozione alla strategia e alla pianificazione della campagna stessa rispondendo appunto alla necessità dell'impresa un altro sito anche per farvi intuire quanto il panorama diciamo così di provenienza di attività e merceologica delle imprese fosse di natura anche molto diverse un altro esempio che vi porto invece è riferito a una micro impresa che era un'impresa artigiana una camiceria di alta di alta sartoria e con anche un proprio punto vendita in gestione questa micro azienda ha lavorato con uno studio di design attraverso questo percorso al rifacimento del proprio sito internet e alla creazione di un'app di un'applicazione appunto digitale che consentisse di rilevare le misure a distanza per poi implementare la propria le proprie attività di vendita online in ultimo il terzo caso che vi racconto è un'impresa appunto proprio sempre di piccole dimensioni ma comunque più importante di quella che vi ho appena raccontato si tratta di un'impresa che lavora nella dimensione del B2B e che ha lavorato insieme al studio di design che ha incontrato attraverso il percorso del bando dell'anno scorso ha lavorato alla produzione di una alla realizzazione dal punto di vista come dire visivo tecnologico e funzionale di un e-commerce che ha aiutato l'impresa da un lato a diciamo migliorare le proprie strategie proprio nella gestione degli ordini a fornire alle proprie alle proprie aziende clienti un miglior servizio di controllo e di gestione dell'ordine in estere degli ordini precedenti e ha permesso anche di attivare una comunicazione e una connessione più importante con i propri magazzini questo solo per darvi un panorama di alcune delle tante diciamo così delle diverse dell'esito dei diversi match a cui siamo arrivati attraverso il percorso dell'anno scorso augurandomi insieme a Guido ma anch'io ne sono certa che anche questo possa avere lo stesso felice esito quindi adesso entriamo invece proprio nel merito del bando e a questo proposito lascio la parola a Nicoletta Marchiandi che è responsabile del settore innovazioni e bandi della Camera di Commercio grazie Sara grazie a Guido che mi han preceduta e do il benvenuto a tutti a questo approfondimento il mio compito oggi è darvi una panoramica delle linee generali del bando per cui senza indugio chiedo alla regia di proseguire nella proiezione delle slide come abbiamo detto questo bando ha l'obiettivo di stimolare l'innovazione digitale è sostenibile perché perché da questo anno in particolare l'obiettivo diciamo di tutto il nostro settore in particolare del punto impresa digitale che ho l'onore di coordinare non è solo di portare le aziende ad una maggiore consapevolezza digitale ma parliamo di doppie transizioni quindi la transizione digitale e la transizione sostenibile quindi cerchiamo di stimolare proposte progettuali che vengono dalle aziende cosiddette design based dove con design based intendiamo la progettazione e lo sviluppo di strumenti o di sistemi rivolti e alla sfera digitale e alla sfera ecologica diciamo così ma anche e o alla sfera digitale ed ecologica quando intendiamo con digitale uno strumento abilitante per passare al miglioramento della sostenibilità in azienda non vi faccio gli esempi ce ne sarebbero troppi ma potete con la vostra immaginazione cercare di calare questi concetti nella vostra realtà aziendale il nostro obiettivo è quindi supportare una trentina di piccole micro e medie imprese della provincia di Torino di qualunque settore economico il bando prego la prossima slide si compone di due fasi chiediamo a voi aziende un po' di tempo nel senso che forse siete abituati a bandi come quello che è stato appena chiuso dal sistema camerale della regione Piemonte in cui si presenta un'istanza una domanda di contributo a fondo perduto con un preventivo e l'ente erogante eroga il contributo qui dicevo vi chiediamo uno sforzo aggiuntivo che però è premiante per diciamo raggiungere gli obiettivi di cui ha parlato Sara innanzitutto chiediamo a chi è interessato di iscriversi gratuitamente ovviamente alla piattaforma dopo Sara anzi Rossana ci racconterà qual è questa piattaforma dove noi chiediamo alle aziende che vogliono intraprendere questo percorso di fare un piccolo assessment che non è solo sulla loro capacità digitale ma sulla loro posizione anche nei confronti dell'organizzazione aziendale del loro modello di business e che ci permetterà poi di intanto tarare la formazione che è un'altra tappa di questo percorso poi affiancare degli incontri di tutoring fin quando attraverso questo tutor si andrà a definire con l'azienda e quindi proprio un'attività di assistenza individuale la famosa call to design cioè la definizione di un progetto di sviluppo digitale sostenibile che attraverso il tutor si andrà a disegnare per poi cercare il matching con uno dei designer iscritti sempre alla piattaforma perché l'obiettivo della piattaforma è proprio fare come diceva prima la collega questo matching solo quando continuiamo nel nostro percorso abbiamo toccato tutte queste sei tappe possiamo alla fine disegnare quindi col designer che abbiamo avuto in diciamo in matching una fase di preventivo che sarà poi la fase effettiva che ci permetterà di arrivare al vero e proprio voucher quindi solo le aziende che avranno partecipato a tutte queste tappe potranno passare alla fase 2 la fase 2 eccola qua è proprio l'erogazione del voucher cioè la concessione del voucher che supporterà l'abbattimento delle spese per la realizzazione del progetto di design digitale sostenibile e che verrà rivolto a quelle imprese che hanno ovviamente felicemente superato la fase 1 e che quindi hanno toccato tutte le tappe della fase 1 e che pertanto potranno beneficiare anche dell'intervento economico della Camera di Commercio di Torino andiamo avanti la slide successiva ci indica quali sono le spese ammissibili le spese ammissibili non sono ben strumentali ma sono vere e proprie consulenze know-how di un designer o di uno studio di progettazione che è presente come vi dicevo sulla piattaforma AstuDesign quindi se ci sono dei designer qui collegati che non sono ancora iscritti alla piattaforma vi invitiamo a farlo la piattaforma è gratuita e anzi vi darà poi modo di utilizzare i servizi gratuiti che attraverso la piattaforma la Camera di Commercio vi garantisce e dicevo una volta iscritti alla piattaforma i designer potranno rispondere a questa call to design che verrà definita dalle imprese che hanno partecipato a quelle tappe che ovviamente sono imprese che richiedono del design andiamo avanti la slide successiva ci dà come indicazione generale gli ambiti di applicazione o gli ambiti di disegno dei progetti che possono essere ritenuti elegibili quindi attività che riguardano canali digitali di promozione comunicazione questo per l'ambito digitale vi ripeto abbiamo cercato di inserire questi punti che non sono esaustivi assolutamente abbiamo cercato di sintetizzare il maremagno di opportunità digitali attraverso quelli che sono le richieste più diffuse e soprattutto le attività dei designer digitali che vediamo più applicate nelle imprese più tradizionali per quanto riguarda l'altro ambito la sostenibilità eccoci qua abbiamo cercato di riassumere ma ripeto non è esaustivo quindi non è solo questo ma potrebbe esserci anche molto altro che riguarda la crescita sostenibile dell'azienda e anche il cambiamento dei modelli di business dell'azienda non è solo nuovi sistemi di produzione o di packaging ma anche l'utilizzo di materiali sostenibili il riuso il ciclo di vita dei prodotti in ottica circolare la logistica l'approvvigionamento dei trasporti oppure l'ecosistema fisico-digitale del delivery o del ciclo di vita dei vostri prodotti o anche dei vostri servizi quando si siano anche possibilmente di impatto ambientale oltretutto la sostenibilità non è solo ambientale quindi noi parliamo di sostenibilità anche in termini di equità governance dell'azienda per cui ripeto in questo caso noi abbiamo cercato di esemplificare il concetto di sostenibilità declinandolo soprattutto sul lato ambiente green ma in realtà i progetti che noi pensiamo anche possano essere sostenibili riguardano anche il benessere aziendale l'equità le pari opportunità l'integrazione l'inclusività andiamo avanti con la tipologia di agevolazione che forse è quello che più interessa a molti si tratta come vi anticipavo di contributi a fondo perduto a copertura di un massimo dell'80% di costi ammissibili dove l'importo massimo del voucher è di 5.000 euro dove chiediamo però un investimento minimo di 3.000 euro si tratta di aiuti in regime de minimis perché sono aiuti di stato e quindi verranno identificati come aggiuntivi agli aiuti che già l'impresa ha ricevuto nell'ambito del registro nazionale e degli aiuti di stato quindi vi chiedo solo di stare attenti alla vostra soglia del de minimis ancora una slide abbiamo pensato e su questo mi soffermo un momento di dare alcuni punteggi prioritari visto che il bando non è a sportello ma ci dà la possibilità certamente di selezionare 30 beneficiari innanzitutto vabbè beneficiari come vi dicevo sono aziende scritte alla Camera di Commercio di Torino che in qualche modo sono state o hanno collaborato con noi su tante tematiche innanzitutto chiediamo alle aziende di impegnarsi a partecipare ad uno dei talk del percorso di approfondimento sulle tematiche vi dico che come da slide del percorso si tratta di partecipare a uno dei tre talk che si svolgeranno prima dell'apertura del bando in modo tale da andare anche a capire se il bando è effettivamente tagliato per le vostre esigenze poiché questo bando è per molti ma io dico sempre non per tutti un po' perché chiede un impegno ed una consapevolezza nel volere davvero portare a termine un progetto di miglioramento aziendale in ottica design driven un po' perché chiediamo anche il vostro tempo per formazione per essere seguiti da un tutor perché oltre al voucher non vi mettiamo a disposizione moltissimo know-how che viene grazie al circolo del design dagli esperti chiediamo inoltre se è possibile e quindi diamo un punteggio di premialità di eseguire o di aver eseguito l'assessment zoom sulla maturità digitale oppure avere anche concluso perché no perché questo potrebbe essere un'evoluzione un percorso di mentoring digitale siamo anche molto contenti di dare una premialità a quelle aziende che negli anni hanno ottenuto il premio chiave a stella è anche un modo per dire grazie a queste aziende per valorizzare questo tipo di premio un altro dei criteri di premialità è visto che si parla di sostenibilità avere realizzato quello che noi chiamiamo un assessment sulla sustainability è un particolare strumento di valutazione della propria sostenibilità oppure un assessment del progetto sull'economia circolare che si chiama Act to Cirque inoltre quest'anno è diciamo è una premiere dato il nostro progetto digitale sotto casa che mira ad accelerare la digitalizzazione delle aziende del comparto del commercio dell'artigianato diciamo delle botteghe di strada vogliamo davvero incentivare tutti coloro che partecipano a questo progetto la cui community è in fase di rilancio a seguire la Camera di Commercio in questo percorso un po' più intenso e quindi in particolare se collegati ci sono commercianti esercenti piccoli artigiani che sono iscritti alla piattaforma digitale sotto casa vi invitiamo davvero a valutare la possibilità di partecipare a questo bando come anche opportunità formativa di miglioramento e crescita del vostro business ancora abbiamo altri progetti specifici che come Camera di Commercio teniamo a incrociare o quantomeno valorizzare anche attraverso questo bando che sono questi progetti che vedete qui citati si tratta poi qua c'è il mio collega Diego Albesano che vi può approfondire le caratteristiche di questi progetti se non ne avete ancora avuto notizia ma sono progetti specifici di internazionalizzazione di filiere diverse che come Camera di Commercio abbiamo condotto nel corso degli ultimi anni e che vanno a toccare di nuovo dei comparti più tradizionali e forse più orientati alla digitalizzazione per l'estero per l'export ultimo ma non ultimo è sempre un criterio che mettiamo come premialità nei nostri bandi è il possesso di rating di legalità se facciamo il conto sono più o meno se non vado errata nove punti totali se qualcuno di voi ha tutte queste caratteristiche diventa prima in classifica perché non c'è un momento un click day ma parità di diciamo così di azienda viene scelto chi ha più punti e per avere più punti bisogna avere tutte queste caratteristiche andiamo avanti cercando di sintetizzare il percorso anche per noi è articolato quindi abbiamo pubblicato il bando oggi ne troverete dopo vi lasciamo il sito web o forse proprio nella chat il mio collega l'ha postato prima ne troverete il testo integrale nonché la diciamo la versione web e quindi potete consultarlo potete consultarlo fare una riflessione e candidarvi qualora vogliate presentare poi la domanda inizio febbraio 2024 quando apriremo le candidature per la fase 1 abbiamo tutto febbraio per voi per candidarvi e ci prendiamo due settimane per comunicare l'esito dell'istruttoria di chi viene selezionato per la fase 1 dopodiché inizia il percorso di formazione di tutoraggio che sarà previsto nella primavera e la call to design sarà pubblicata dato il percorso che abbiamo fatto vedere prima entro metà giugno in modo tale che inizio della fase 2 sia entro fine giugno in modo tale che entro fine luglio possiamo definire la concessione dei voucher alle imprese selezionate nella fase 2 che sono poi quelle che hanno partecipato alla fase 1 cosa vuol dire questo vuol dire che in termine ultimo per aver fatto il progetto e aver ricevuto poi effettivamente il contributo erogato da parte della Camera di Commercio è entro febbraio 2025 e noi entro 90 giorni ma lo facciamo in fretta erogheremo concretamente le somme ai beneficiari che ne faranno richiesta tutte le domande tecniche che possono emergere possono essere inserite nella chat noi comunque come diceva il mio collega prima dottor Cerato raccoglieremo tutte le domande più frequenti e le pubblicheremo online ma io sono prima di passare anzi no facciamo così Rossana io ti passerei la parola in modo tale che chi ha intanto delle domande inizi a elaborarsele ma vedrete che anche la presentazione che farà la collega andrà anche nel dettaglio della piattaforma di cosa vuol dire iscriversi e alcune di queste domande magari verranno già risposte nella presentazione che segue io vi ringrazio e lascio la parola a Rossana Bazzano grazie grazie mille Nicoletta buongiorno a tutti io sono Rossana Bazzano e sono project manager appunto del progetto Ask2Design vi ricondivido velocemente lo schermo per farvi vedere appunto le slide allora vi faccio un primo racconto appunto di che cos'è il servizio di cui abbiamo è stato già citato sopra quindi come funziona Ask2Design è concretamente una piattaforma digitale che trovate al sito www.ask2design.it aziende e designer quindi da una parte piccole e medie imprese del territorio dall'altra designer e studi design quindi chi offre consulenze di design si possono iscrivere gratuitamente e liberamente quindi in qualsiasi momento dell'anno alla piattaforma le aziende si iscrivono creando un proprio profilo e inserendo alcune informazioni di base i designer si iscrivono invece aggiungendo informazioni relative alle proprie competenze quindi caricano sulla piattaforma i progetti da loro realizzati con altre aziende o con altre organizzazioni per in qualche modo creare un portfolio visibile alle aziende iscritte che faccia un po' capire intuire quel tipo di profilo che sia professionista freelance o che sia studio di design in quale competenza specifica si è appunto specializzato le aziende come abbiamo visto una volta iscritte alla piattaforma possono usufruire di un percorso di tutorship che è composto da un assessment e da un incontro di tutorship che adesso andiamo poi ad approfondire possono poi successivamente pubblicare una call to design quindi una richiesta di progetto un vero e proprio brief che contiene alcune informazioni in che queste le andremo a vedere e caricandole sulla piattaforma e caricando questa call sulla piattaforma possono incontrare appunto i designer cioè i designer possono manifestare il proprio interesse a partecipare e a collaborare con l'azienda e avviene poi il matching cioè l'azienda seleziona un designer o uno sui design con cui desidera lavorare faccio appunto un focus sul percorso di formazione e tutoraggio che appunto è già stato raccontato da Nicoletta sopra vado solo nel dettaglio su alcuni punti che poi si ritrovano effettivamente sulla piattaforma e sul servizio quindi il percorso di formazione e tutoraggio è quello che parte dal momento dell'iscrizione alla piattaforma fino alla selezione del designer o dello studio di design quindi guardando i singoli punti l'iscrizione alla piattaforma come dicevo libera e gratuita ci si può collegare al sito www.ask2design.it in alto a destra trovate un tasto per entrare nel caso in cui siate già iscritti nel caso in cui invece dobbiate iscrivervi nell'home page c'è un banner bianco con la domanda se è una piccola media impresa iscriviti subito quindi cliccando sull'iscriviti subito viene fuori un pop up dove vi richiedono alcune informazioni e da lì potrete effettivamente creare il vostro profilo esattamente qui quindi se è una piccola media impresa si apre poi un pop up dove vedete che vi vengono chieste alcune iniziali informazioni la seconda fase quindi dopo l'iscrizione sulla piattaforma viene proposto un self assessment si tratta di una sorta di questionario fatto di sei capitoli tematici e serve a due diciamo funzioni questo assessment contiene dei contiene delle informazioni degli approfondimenti sul contesto e sulle competenze del design quindi serve l'azienda a fare anche un focus e a capire a che punto è nella sua diciamo preparazione o nel suo approccio con le competenze del design la seconda funzione è per i tutor che poi seguiranno l'azienda nel percorso del bando per raccogliere appunto alcune informazioni perché appunto vengono chieste alcune domande rispetto ai capitoli tematici che vedete quindi raccogliere alcune informazioni e capire appunto il posizionamento dell'azienda sui temi del design quindi banalmente l'azienda partecipa ad esempio a fiere di settore se sì all'interno della fiera come si comunica e quindi può avere bisogno di un designer che è l'aiuta nella parte di allestimento fieristico e quindi di comunicazione dell'allestimento oppure ha una mappatura dei suoi competitors sì no se non ce l'ha si può fare un lavoro in questo senso per pensare a delle strategie per posizionarsi e comunicare i propri prodotti e servizi in altro modo quindi si tratta anche proprio di una raccolta di informazioni molto concrete sull'azienda la durata del self assessment se si decide di fare tutti e sei capitoli diciamo insieme è di un'ora e quindici minuti la modalità di fruizione è completamente remoto cioè l'azienda può compilare i capitoli in maniera del tutto indipendente e da remoto perché è un percorso digitalizzato ciascun capitolo è indipendente quindi posso decidere se è un momento di compilare il primo capitolo poi in un altro momento compilare il secondo chi può rispondere all'assessment una figura in azienda che si sa essere più competente su quel tema specifico quindi non richiediamo che ci sia una figura specifica a rispondere ai capitoli anzi possono essere anche figure diverse quindi l'assessment qua vedete sulla piattaforma una volta che avrete fatto accesso sulla piattaforma lo troverete nella sezione design lab potrete vedere tutti i capitoli separatamente iniziarne iniziarli separatamente vedete anche poi la durata di ciascun capitolo quindi avete in mente il primo capitolo dura circa 10 minuti il secondo 10 minuti il terzo 8 minuti così potete anche organizzarveli diciamo nel tempo per quanto riguarda invece gli incontri di formazione si tratterà di tre incontri di cui però ciascuna azienda partecipante partecipa solo uno quindi sono tre incontri ma per riuscire a spalmare le 30 aziende partecipanti con una numerica gestibile per cui ciascuna azienda parteciperà a un incontro che durerà mezza giornata la modalità di fruizione sarà in presenza presso il circolo del design che è in via San Francesco da Paola Torino poco lontano dalla sede della Camera di Commercio di Torino l'incontro sarà effettivamente un momento di approfondimento e focalizzazione anche della propria domanda che può essere relativa all'ambito digitale all'ambito sostenibile o incrociarli entrambi l'incontro sarà facilitato da uno studio di design attivo a livello nazionale e specializzato su processi di transizione ecologica digitale si tratterà di un incontro molto interattivo e coprogettuale quindi il fatto che duri mezza giornata è perché farete degli step successivi guidati da questo studio di design e usciti da questo momento avrete ancora più chiaro qual è il tipo di ambito su cui vorrete concentrare la vostra attività successiva successivamente all'incontro di formazione c'è invece un incontro di tutoring che dura un'ora la modalità di fruizione può essere in remoto in presenza poi lì lo si decide anche più avanti questo incontro di tutoring invece lo farete con me è un incontro di tutoring appunto abbastanza breve e si tratta del momento in cui effettivamente andremo a compilare la richiesta di progetto quindi la call to design che verrà pubblicata sulla piattaforma che vi servirà per andare a incontrare il designer o lo studio con cui lavorerete quindi è un momento diciamo molto concreto molto pratico in cui se avrete dubbi sull'utilizzo della piattaforma ve li potrò diciamo sciogliere se avete ancora dubbi sul percorso fatto possiamo parlarne e in più andremo proprio concretamente a compilare questa call to design in modo da diciamo seguirvi veramente dall'inizio alla fine fino al momento in cui incontrerete il designer a questo punto ci sarà la pubblicazione della call to design che farete in autonomia sul sito la call to design è così composta come dicevamo è una richiesta di progetto quindi contiene diciamo l'ambito professionale di interesse che andrete a cercare sulla piattaforma e adesso poi andremo a capire quali competenze troverete sulla piattaforma il tipo di figura professionale richiesta quindi se preferirete lavorare con un professionista freelance o uno studio di design diciamo la differenza principale tra queste due tipologie di figure da una parte abbiamo un professionista singolo quindi un freelance che spesso ha anche competenze molto verticali essendo una persona singola lo studio di design tipicamente è un insieme di professionisti quindi permette di avere anche di mettere insieme competenze più trasversali quindi questa è un po' la differenza ma lo andremo poi tranquillamente ad approfondire nel momento in cui si parteciperà a questo bando nella call to design vengono anche indicate delle tempistiche di realizzazione che in questo caso si incrociano molto con le tempistiche del bando ma come dire poi andranno definite anche insieme al designer e infine un range di budget sapendo che appunto avrete poi un contributo a disposizione che è il voucher che mette a disposizione la Camera di Commercio di Torino ci sarà poi un brevissimo testo descrittivo della richiesta di progetto che appunto andremo a costruire insieme sulla base di tutto il percorso fatto qua semplicemente un focus su quali sono gli ambiti di interesse predominanti sulla piattaforma troviamo diverse competenze chiaramente collegate al mondo del design dalle più forse conosciute che sono diciamo la progettazione grafica quindi la comunicazione visiva e il prodotto che sono forse i più conosciuti nell'ambito del design ma in realtà ritroviamo altre competenze da chi si occupa di progettazione di spazi quindi interior design che si occupa più che altro di progettazione di spazi chiusi diciamo e exhibit quindi spazi fieristici per l'azienda da chi si occupa invece di prodotti digitali e progetti digitali quindi il digital design che sicuramente sarà molto stimolato in questo in questo bando fino ad arrivare anche a chi si occupa di progettazione di servizi e di strategie anche questo secondo me sarà una competenza molto stimolata nel bando vista la diciamo la presenza di transizione digitale e transizione verde infine c'è chi si occupa dell'audiovisivo quindi produzione audio video e anche questo può essere un punto interessante appunto la pubblicazione della call to design che dovrà avvenire entro circa 4-5 giorni dall'incontro di tutoring qua vedete semplicemente uno screenshot di una call pubblicata quindi come vedete è una call che poi in realtà è molto semplice nel senso che appunto contiene le informazioni diciamo base affinché il designer possa capire che cosa l'azienda sta chiedendo e dire effettivamente si sono interessato o non sono interessato e quindi candidarsi appunto alla fine quindi chiudiamo il percorso di formazione tutoring con la selezione del designer o dello studio di design e poi la chiusura del preventivo faccio solo un piccolo focus sulle premialità di cui ha già parlato Nicoletta Marchiandi tra le premialità e tra i punteggi che sono stati illustrati il primo era proprio andava proprio a incidere su delle talk di approfondimento questi talk saranno calendarizzati a fine a fine gennaio quindi i primi due talk saranno in presenza presso il circolo del design l'ultimo sarà invece online su piattaforma Teams qua vedete appunto le date e gli orari già fissati ciascun talk durerà un'ora e verranno a parlare e si presenteranno degli studi di design sia locali ma anche su territorio nazionale che hanno proprio nel loro cuore di consulenza diciamo l'accompagnare delle aziende verso una transizione sia digitale che sostenibile e quindi ci racconteranno dei casi studio ma anche delle metodologie dei processi che hanno già applicato con dei loro clienti e che quindi possono essere di ispirazione per le aziende che desiderano partecipare al bando come giustamente diceva Nicoletta possono essere una prima occasione per comprendere meglio qual è il perimetro di questo bando il perimetro di azione cosa possono fare i designer in risposta a questa diciamo necessità di transizione all'interno delle aziende dando proprio dei casi concreti che facciano diciamo toccare con mano quelle che sono le possibilità e può essere anche un'occasione di primo networking per conoscere appunto dei designer sia del territorio sia a livello nazionale qua vediamo i tre studi che saranno appunto presenti sui su questi tre talk il primo è Shifton che è uno studio di Milano è uno studio specializzato appunto nella social innovation e nella transizione digitale di imprese e organizzazioni il secondo talk invece sarà tenuto da dallo studio Enhansers che è uno studio di Torino loro sono molto focalizzati sulla transizione digitale delle imprese e lavorano su digital products e sistemi IoT per soprattutto per la manifattura l'ultimo studio sarà Tangible che è uno studio di design di Rimini specializzato nella creazione di prodotti e servizi digitali con l'obiettivo di creare impatto positivo nelle aziende nel territorio in cui sono inserite qua vi lascio semplicemente i contatti poi appunto come diceva giustamente Nicoletta come hanno detto prima di me c'è una chat in cui potete lasciare potete scrivere le eventuali dubbi o domande in ogni caso qui trovate i contatti del PID della Camera di Commercio di Torino e i miei contatti per qualsiasi richiesta abbiamo pubblicato il bando come diceva Nicoletta stamattina quindi qua fa che i moduli saranno disponibili a breve sono già disponibili non so se ci sono delle domande sì sì c'è qualche domanda allora intanto una precisazione sui criteri di selezione non avevo messo in esalia ma non c'è un punteggio minimo quindi volendo uno può anche non avere nessun criterio per partecipare alla presentare la domanda tenendo presente che a parità di punteggio si andrà diciamo che varrà l'ordine di presentazione della domanda quindi l'ordine cronologico varia solamente a parità di punteggio poi un'altra precisazione di talk per quanto riguarda i talk di cui ha parlato Rossana metteremo a breve i prossimi giorni sul sito sempre sulla pagina del bando tutti i programmi con le date e anche le modalità di iscrizione passo poi alle domande che sono deposte in chat allora una è buongiorno sono una designer nata a Torino ma vivo a Genova il bando è solo perché li siete a Torino e provincia allora per quanto riguarda la presentazione della domanda da parte delle imprese è riservato alle imprese quindi chi intende beneficiare del voucher in poche parole solamente le imprese che hanno o la sede o unità operativa nella provincia di Torino per quanto riguarda il design e il costo di servizi non c'è un limite geografico quindi non c'è problema se qualcuno è già iscritto alla piattaforma può partecipare direi proprio di sì come ha detto anche Rossana si può essere già iscritti oppure se non si è iscritti ci si registra sul momento altra domanda chi passa la fase 1 ha di sicuro accesso al contributo tendenzialmente sì nel senso io adesso rego proprio quello che dice il bando potranno partecipare alla fase 2 solo le imprese che hanno diciamo partecipato alla fase 1 però devono aver proprio partecipato attivamente quindi a tutte le attività previste dall'assessamento al coaching alla formazione quindi comunque le imprese che sono selezionate per la fase 1 e hanno partecipato diciamo con successo alla fase 2 arrivando alla call to design hanno diciamo diritto poi ad avere se tutto ovviamente formalmente in regola ad avere poi il voucher altra domanda la somma investita va quindi anticipata al designer scelto e poi si tiene il rimborso sì esatto quindi sì presenta il preventivo noi confermiamo la concessione del voucher a quel punto l'impresa realizza l'attività col designer lo paga ci presenta la rendicontazione quindi la fattura e la prova del pagamento poi noi diamo un rimborso dell'80% esatto altra domanda chi ha partecipato a un'edizione precedente della call può presentare domanda assolutamente sì non c'è nessuna preclusione in questo senso anzi aggiungo qualcosa sì il nostro ragionamento è stato proprio questo magari qualcuno ha partecipato con successo la fa ai bandi precedenti e vuole continuare il percorso perché ovviamente il percorso di miglioramento sul tema digitale e sostenibile non smette mai e quindi a maggior ragione vi invitiamo a proseguire vai Paolo poi vabbè c'è una sul contributo della Camera di Commercio dell'80% a fondo prodotto per un massimo di 5.000 euro corretto corretto allora qua ce n'è una che invece lascerei illustrare magari a Rossana come verrà il match fra designer aziende quello lascio la parola a Rossana che direi che si intende di più sì allora il match fra designer aziende avviene attraverso lo strumento della call to design quindi proprio praticamente l'azienda che si è iscritta alla piattaforma ha fatto tutto il percorso pubblicherà questa call to design quindi poi si ritroverà sul suo profilo un bottone aggiungi una call potrà compilare la call per come è stata concordata insieme al tutor pubblicarla nel momento in cui l'ha pubblicata ai designer scritti in piattaforma arriva una notifica che evidenzia il fatto che è uscita una nuova call i designer interessati manifestano il loro interesse a partecipare cliccando semplicemente un bottone all'azienda arriveranno delle notifiche scusate sia tramite la piattaforma che tramite mail con tutti i candidati di solito Ossana magari per chi non è non è dentro le nostre attività di design che cos'è una call allora la call to design come abbiamo visto poco fa è una richiesta di progetto e quindi diciamo in termini più tecnici è un brief quindi appunto una richiesta in cui che l'azienda fa verso la community di designer e contiene appunto delle informazioni che sono relative a di che cosa ho bisogno e quindi a quali competenze sto facendo richiesta quindi ho bisogno di una consulenza di prodotto di servizio di comunicazione visiva sull'ambito digitale eccetera quindi diciamo un'informazione generale di cosa ho bisogno un range di budget che metto a disposizione di questa call quindi io azienda quanto potrei spendere a livello di range su questa call e delle tempistiche che ho bisogno di rispettare date queste diciamo tre informazioni base ai designer è sufficiente capire sono in grado di rispondere a questa call sì no sono interessato sì no e quindi sulla base delle risposte precedenti candidarsi quindi come dicevo appunto le candidature arrivano all'azienda normalmente con un tempo di una settimana dieci giorni arrivano già delle candidature accettabili abbastanza numerose normalmente per l'azienda per poter poi selezionare lo studio il designer che con cui preferiscono lavorare la piattaforma è costruita anche in modo per facilitare anche la parte di selezione nel senso che i profili sono come dire confrontabili tra di loro in qualche modo perché sono diciamo costruiti tutti allo stesso modo e quindi c'è anche un minimo di facilitazione per l'azienda per poi selezionare qual è il profilo con cui desiderano continuare a lavorare grazie e Rossana c'è un'altra domanda che ti passerei mi scusate non ho capito dove trovare fare il self assessment allora il self assessment nel momento in cui ci si iscrive alla piattaforma quindi si è già iscritti come azienda quindi si è all'interno della piattaforma dopo aver fatto accesso in alto a destra c'è una sezione che si chiama design lab cliccando su quella e scendendo nella pagina si trovano i capitoli di approfondimento ci sono tutti sei capitoli che si possono poi compilare singolarmente mentre rispondiamo alle domande tu hai modo di fare una simulazione Rossana andando nel sito vi condivido subito lo schermo un attimo intanto c'è anche delle domande invece chiedono spiegazioni su qual è il progetto di mentoring digitale non so Nicoletta se vuoi dire due parole dunque il punto imprenda digitale tra le variazioni che mette a disposizione di voi aziende sempre in forma gratuita anche questo schema di mentoring cioè noi riusciamo ad accedere a una banca dati diciamo così di esperti imprenditori o esperti di vari ambiti digitalizzazione che offrono una certa quantità del loro tempo massimo 20 ore ma sono molte meno per accompagnare le aziende nel primo miglio del loro progetto di digitalizzazione se siete degli esperti Paolo ha postato nella chat il link a questo schema non dovete fare altro che contattarci e se volete fare il mentor ben volentieri vi inseriamo in questa banca dati c'è un percorso insomma non automatico ma perché la banca dati è nazionale ma soprattutto se siete un'azienda che volete un mentor anche qui abbiamo una piccola procedura per cui non dico una sorta di call to design ma abbiamo un piccolo formulario da compilare dove ci descrivete il progetto che volete portare avanti e a che cosa vi può servire il mentor e noi simile al matching ma meno complicato della piattaforma design di ask to design vi diamo a disposizione uno dei mentor che ad oggi abbiamo nel nostro registro dei mentor a te Rossano vi condivido un attimo lo schermo per farvi vedere allora questa è la piattaforma ask to design punto it qui come vi faccio vedere prima questa è la home page in home page potete vedere i due banner per iscriversi il primo quello nero è dedicato a designer studi di design il secondo è dedicato invece alle imprese quindi cliccando su iscriviti subito si apre questa pagina dove vengono richieste alcune informazioni molto base per poter creare il profilo quindi una volta iniziato questo percorso si crea il proprio profilo quindi una volta fatto accesso in alto a destra si possono inserire le credenziali e entrare sulla piattaforma che chiaramente adesso ok per quanto riguarda invece il self assessment che mi chiedevano prima questo qua ho fatto appunto accesso come se fosse un'azienda in questa sezione che si chiama design lab scendendo in basso e cliccando su questo più ci sono tutti i capitoli di approfondimento che abbiamo visto prima quindi sono sei e come dicevo si possono compilare singolarmente e quindi ciascun capitolo ha un un click con inizia e quindi da lì si inizia poi l'assessment quindi qua si ritrova per quanto riguarda invece se qualcuno è già curioso di vedere i primi profili di designer nella sezione esplora cliccando poi su designer si ritrovano tutti i profili presenti sulla piattaforma sono in ordine alfabetico sono differenziati da un'etichetta se sono studi di design come dicevamo prima o se sono freelance quindi professionisti quindi vedete qua ad esempio studio ma potete vedere anche freelance aprendo sul singolo profilo si aprono effettivamente tutti i progetti realizzati sta caricando tutti i progetti realizzati da quello studio scusa Rossana solo una precisazione rispetto a quanto è stato detto prima si diceva relativamente alla copertura geografica che il bando si rivolge alle imprese torinesi sulla piattaforma invece i designer presenti sono comunque designer piemontesi quindi la copertura della piattaforma di ASC relativamente all'offerta di design è regionale quindi per rispondere a quella designer mi sembra Ligure dovrebbe avere un'unità locale o essere diciamo localizzata se è un professionista sul territorio piemontese esatto grazie ci sono altre domande Paolo si aspettate che le sto un attimo raccogliendo allora ce ne sono ancora intanto mi scudo per l'informazione errata prima sulla questione della localizzazione del designer ci sono ancora un paio di domande che sono più per il circolo di design una è chi è già iscritto un'azienda già iscritta all'ASC to design deve rifare self-assessment e l'altra domanda è bisogna escludere eventuali matching designer o studi con i quali si è collaborato in precedenza queste sono due domande che lascerei appunto a Rossana allora per quanto riguarda la prima domanda ma sarebbe diciamo bene secondo me anche se si è già compilato il self-assessment in precedenza ricompilarlo per questo bando perché potrebbe anche essere passato del tempo dalla prima volta che lo si è compilato quindi potrebbero anche essere cambiate alcune cose per cui secondo me sarebbe bene ricompilarlo l'altra domanda scusami Paolo era se se si può fare match con uno studio di design con cui si è già collaborato esatto con cui si è già collaborato su quello lato nostro direi che non c'è nessun problema quindi direi di sì allora poi altre domande c'è un importo minimo del finanziamento c'è un importo minimo dell'investimento che è 3.000 euro quindi diciamo non si può spendere meno di 3.000 euro poi dunque c'è un esempio di servizi che può partecipare sia come beneficiario che come designer su ambiti diversi allora non però certamente direi che non può fare c'è un'esclusione per quanto riguarda il fornitore che non può essere un apporto di collegamento con l'impresa che beneficia del voucher però direi che non ci sono invece esclusioni nel senso che un'azienda può beneficiare sia del voucher che per porsi come fornitore direi che non ci sono non ci sono limitazioni di questo tipo sarà possibile rivedere il video sì di questo webinar lo pubblicheremo se lo stiamo registrando apposta il limite massimo di 5.000 euro di rimborso rispetto alla singola azienda o la singola call un'azienda può presentare più call per più ambiti e ottenere più di un voucher no può presentare una sola domanda quindi è riferito alla singola azienda che in questo caso si riferisce anche alla singola call non ho capito in che momento si viene valutati secondo i criteri di valutazione delle domande è una fase che precede l'iscrizione stessa alla piattaforma allora in pratica come diceva Nicoletta a febbraio ci sarà la possibilità di presentare domanda per la fase 1 nel modulo di domanda che pubblicheremo poi prossimamente vedrete che ci saranno troverete riportate uno schema che riprende i punteggi quindi potete dire quali dei vari criteri che danno un punteggio voi possedete dopodiché ci sarà la fase di valutazione e faremo una graduatoria appunto mettendo in ordine di chi ha più punti e poi a parità di un ordine cronologico quindi diciamo che la valutazione verrà effettuata in quella fase lì dopo a fine febbraio si chiude la domanda per la fase 1 a questo punto faremo la graduatoria e le prime 30 imprese ammesse verranno appunto ammesse al percorso di tutoraggio formazione della fase 1 spero di aver risposto quindi sì precede la iscrizione alla piattaforma esatto poi se volete comunque iscrivervi alla piattaforma potete iscrivermi non c'è preclusione l'iscrizione è gratuita anzi assolutamente forse nel vostro interesse iscrivervi per andare a vedere quali tipi di offerta di design quali tipi di progetti sono realizzati l'iscrizione alla piattaforma è assolutamente indipendente anzi il servizio Ask2Design è un servizio che comunque esiste a prescindere dal bando quindi può essere utilizzato dalle aziende dai designer assolutamente in qualsiasi momento e con la stessa logica ecco di matching poi c'è una domanda riguardo sempre il mentoring in pratica vabbè dove contattarci per avere un mentor digitale bisogna scrivere a PID la mail che troverete comunque nelle slide pid.torino chiocciolato .cam.com.it comunque la trovate anche nella pagina del bando e l'altra domanda è una precisazione che in effetti sarebbe utile fare bisogna escludere da eventuali diciamo sul mentor digitale in pratica se si fa richiesta oggi e se viene accettati è possibile concludere il processo di accompagnamento entro il 31 gennaio 2024 diciamo che onestamente non credo ci siano i tempi tecnici per concludere un mentoring considerando che di mezzo c'è anche il periodo della vacanza di natale entro il 31 gennaio quindi diciamo che presumibilmente il mentoring dovrebbe essere già in fase già stato avviato per potere anche perché i mentor sono persone e quindi trovare la loro disponibilità in così per carità scriveteci se c'è la possibilità di associare un mentor che in poco tempo riesca a fare tutto ben venga non lo precludiamo ma non ve lo garantiamo perché ovviamente sono persone che sono comunque imprenditori che mettono a disposizione il loro tempo e oltretutto voi aziende dovreste anche elaborare una piccola idea progettuale quindi non basta dire voglio un mentor dove vedete nel sito dovrete anche inviarci una piccola idea progettuale comunque ciò non toglie che se possibile noi ve lo cerchiamo tempi permettendo sono state altre domande allora per iscriversi al bando basta iscriversi alla piattaforma c'è un altro procedimento prima o dopo allora diciamo più che iscriversi al bando per far domanda per il bando bisogna inviarci un modulo di domanda che come dicevo prima pubblicheremo sicuramente prima di febbraio sul sito quindi un modulo in cui oltre ai dati anagrafici infatti si chiederà qual è l'ambito digitale o ambientale su cui si vuole presentare il progetto e poi qualche riga di presentazione del progetto quindi è un modulo molto semplice che deve essere inviato via PEC al nostro ufficio comunque puoi trovare le indicazioni sul bando e sulla pagina del sito quindi anche simile la domanda dove fare iscrizione al bando idem quindi in pratica per partecipare al bando la fase 1 bisogna mandarci una PEC il modulo via PEC in poche parole poi un'altra domanda noi siamo iscritti come designer possiamo iscriversi anche come azienda producendo gli oggetti allora producendo gli oggetti designer allora produzione degli oggetti bisogna vedere ovviamente se rientra nella diciamo nelle tematiche del bando per quanto riguarda le funzioni di essere già iscritti come designer come azienda questo invece lascio la parola a Rossana perché non so bene come funziona da questo punto di vista il portale sì allora tecnicamente si può fare di iscriversi come lato PMI e lato designer quindi se diciamo che questa figura che è iscritta come designer comunque questa azienda questo studio vuole partecipare al bando come azienda perché ha bisogno di appunto cominciare una transizione digitale o proseguire una transizione digitale sostenibile attraverso il design lo può fare vedo un po' di incastro strano però sì cioè nel senso si può fare intanto è arrivata una domanda invece su diciamo le tematiche del bando il restyling in un sito web può rientrare nell'ambito della comunicazione digital il sito diciamo c'è c'è canali digitali di promozione e comunicazione dell'impresa ad esempio il sito internet quindi diciamo sì è una tematica che vedrete aggiungo questo e ovviamente fare il restyling del sito è la cosa che alle aziende è la prima cosa che vi può venire in mente così come aprire una piattaforma di commerce correggetemi se sbaglio ma sono le domande più frequenti in realtà vedrete che partecipando tutta la formazione il tutoraggio il coaching e l'affiancamento con appunto gli esperti del circolo del design voi andrete a capire che non è solo del sito del sito del restyling del sito o di una piattaforma di commerce che avete bisogno vi renderete conto perché la formazione e il tutoraggio serve proprio a proprio a questo che il progetto può essere anche più complesso per cui ovviamente quando inizierete il vostro percorso volete andare vorrete andare da A a B ma in realtà il salto che farete perché quello che abbiamo visto fare ai beneficiari è molto più lungo perché perché avete vicino qualcuno che vi aiuta a fare questo salto più lungo e la Camera di Commercio ve lo finanzia quindi sì la risposta è sì ma vedrete che non sarà solo questo ok intanto una domanda simile a una già fatta prima quindi per il suo risalbando basta scrivere se la piattaforma o ci sono altri procedimenti no come dicevo prima in realtà la piattaforma è una fase successiva la prima fase la prima cosa da fare se si è interessati a parte partecipare ai talk però quella di fare domanda per partecipare alla fase 1 quindi solo le imprese che saranno ammesse alla fase 1 dovranno iscriversi alla piattaforma potranno anche farlo volontariamente però diciamo per poter avere poi il voucher dovranno iscriversi alla piattaforma ma dopo aver avuto conferma di essere state ammesse essere fra le 30 ammesse alla fase 1 poi altra domanda quindi 3.000 euro spesi in minimo e rimborso 2.400 sì chiaramente il rimborso sarà proporzionato all'80% della spesa quindi sì direi che questo è oltre ai criteri elencati c'è anche una valutazione del progetto in sé diciamo che sì c'è una valutazione del progetto in sé non c'è un punteggio sul progetto chiaramente chiediamo la riscrizione del progetto per vedere che sia comunque coerente con gli obiettivi del bando quindi al di là del fatto che poi uno metta una crocetta su uno dei vari argomenti resta in sito eccetera chiaramente poi ci dovrà essere una qualche riscrizione del progetto che ci faccia capire che l'impresa ha un progetto che è coerente con quello che chiediamo noi quindi non c'è un punteggio però giusto per capire se poi il progetto rientra fra le finalità del bando ecco in caso di dubbi naturalmente noi possiamo poi chiedere integrazioni e contattare l'impresa per capire meglio ecco quello va da sé vedo al momento altre domande forse sì quindi manifesteremo la sussistenza dei requisiti di quei criteri di valutazione in occasione dell'invio della richiesta di eccesso alla fase 1 tramite PEC esatto sì nel modulo troverete proprio tutti i vari criteri in cui potete mettere quindi la crocetta nel senso ho partecipato al talk o lo zoom eccetera quindi o sono faccio parte dei progetti XY quindi sì 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 esatto quindi è così poi naturalmente noi sono essendo progetti non vedo altre domande come dicevo poi come diceva prima sia il dottor Cerrato che Nicoletta Marchiandi anzi grazie per il numero di domande che ci sono ci servono come spunto poi per elaborare una prima versione delle FAQ che pubblicheremo sempre sulla pagina del sito nei prossimi giorni direi che abbiamo già una buona base di materiale per la prima versione delle FAQ poi se non trovate le risposte scriveteci così io Nicoletta non vedo altre domande quindi spero di averle viste tutte però non ne vedo altre quindi ad ogni modo una informazione che possiamo dare a tutti e se non siete ancora iscritti al sito della Camera di Commercio di Torino ovviamente quando il bando sarà aperto ne daremmo notizia sia sui social sia sul nostro sito sia attraverso le nostre newsletter per cui ne riceverete notizie non è da dire appuntatevi di richiamarci a febbraio perché siamo proattivi e soprattutto a chi si è iscritto oggi verrà comunicata tempestivamente l'informazione che troverete sul sito il bando aperto comunque a gennaio come abbiamo detto pubblicheremo tutti i moduli e le modalità per inviarci la PEC e ad ogni modo riceverete le informazioni aggiornate man mano che le inseriremo sul nostro sito ovviamente sarà anche sul sito di Astu Design in tutto quanto quindi anche per i designer l'informazione sarà tempestiva se ci sono informazioni che volete chiederci comunque io ho postato nella chat la nostra email del PID soprattutto sugli schemi di mentoring o se volete fare gli zoom ovviamente il periodo è questo quindi vediamo di venirvi incontro nella misura in cui le ore uomo saranno disponibili se volete oltretutto noi riceviamo anche il suo appuntamento digitale per cui se avete intenzione di approfondire i servizi che io ho solo raccontato in breve relativi al punto di presa digitale mi invito sempre a scriverci e ad approfondire con i colleghi che seguono tutto il programma idem per la parte di AstuDesign Diego è qua Rossane è qua scrivete pure a PID e noi lavorando con AstuDesign lo giriamo ai colleghi se non ci sono più altre domande Paolo correggimi se sbaglio siamo andati oltre no non ne ho viste altre no bene e allora io ringrazio tutti per l'attenzione e mi diamo appuntamento per il nostro percorso di allenamento sul design sostenibile nell'inizio del 2024 grazie e buone feste arrivederci grazie mille a tutti e a tutte grazie arrivederci grazie grazie a tutti